per sé non! non! ma tu! no! adesso io lascio... lascia noi! ho fatto parebili ho fatto pare bianco adoro ciao francesco lascio... la fattura l'esercito ma non voglio dire così da una cosa da pelle in gulla e guarda l'esercito in giro un uomo nasce a voi che si faccia via c'è già oh papà 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 ora tu c'è questo gioco faccio il concetto da gioco mi sembra fuori non c'è solo non c'è non c'è ma l'unico della peggio riguarda tir da guadagna e come poi molto non c'è no c'è nessuno